oggi prepariamo insieme le friselle pugliesi vi faccio vedere come le condiamo e condisco in maniera semplicissima quindi pomodoro bello spragnato sulle friselle così sale origano e poi l'olio quello buono pugliese non lesinate perché è l'olio che il protagonista dopo le friselle mescoliamo la farina aggiungiamo il sale e mescoliamo ancora quindi mettiamo il lievito al centro lo zucchero e iniziamo ad impastare un po' 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 un Ok, mettiamo un altro po' di farina. 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 Adesso andranno di nuovo in forno a tostare e avremo le nostre friselle. Quindi le sistemiamo in forno e andiamo a tostarle. Ed ecco le nostre friselle sono pronte, come sentite sono belle croccanti, pronte per essere condite e mangiate. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima, ciao!